L'ex presidente francese Sarkozy è stato arrestato per un presunto caso di concussione e violazione del segreto istruttorio. La notizia ha avuto eco mondiale ed ovviamente è stata ripresa e commentata anche in Italia, dove il popolo del web ha scatenato la sua ironia in particolare sull'ex premier dam Carla Bruni. Su Twitter infatti i commenti più ironici sono tutti dedicati a lei, Carla, e alla sua carriera da cantante. C'è chi lancia sondaggi chiedendosi se adesso lascerà Sarkozy, chi si chiede se tornerà a cantare a tempo pieno per procurarsi da vivere e chi pensa che le sue canzoni abbiano qualcosa a che vedere con l'arresto. Un'altra prova, se ce ne fosse stato bisogno, che la Bruni, ma se è per questo anche Sarkozy, non siano particolarmente simpatici agli italiani.